Ciao a tutti, io sono Giro Gentile e con il mio trio composto oltre a me da Pietro Pancella dal Contrabbasso e Michele Santoliero e la batteria, siamo molto contenti di poter partecipare a questa grande giornata dedicata al jazz italiano e internazionale. Vorremmo ringraziare per l'invito l'ente manifestazioni pescaresi, il maestro Angelo Valori e Pescara Jazz e per voi andremo a suonare un breve repertorio misto di mie composizioni e standard jazz riarrangiati. Buon ascolto! Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie 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 a tutti! 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 a tutti!